ciao ciao stelline benvenuti in un nuovissimo video belle scoperte del mese allora come vedete qui siamo tutto in tema rosa e viola allora intanto vi dico già che il solito video con le cindy girls quindi dovete andare a vedere anche loro e mi raccomando così curiosate un po quali sono le loro belle scoperte di questo mese e che dire spendo due parole per questo il mio gruppo insomma voglio dire questo ho visto che insomma un po di domande me le state facendo è vero che siamo un po calate stiamo facendo un po meno video il motivo ragazzi è che un po tutte nel gruppo abbiamo preso un po di batoste tra lockdown e andare giù di morale con questo maledetto coronavirus e un po tutti abbiamo avuto vari problemi chi economici chi di altro tipo e chi a livello psicologico giù di morale insomma da me a tutte le altre abbiamo fatto il giro ci riprenderemo ragazzi e purtroppo è dura per tutti e come ho già detto anche nell'altro video spero che con questi vaccini sia visto che hanno detto che per agosto tutta l'italia sarà vaccinata io mi auguro che questa cosa la mantengano e che veramente le cose si facciano va bene detto questo mando un bacio a tutte le ragazze del mio gruppo anche se insomma ci noi ci sentiamo un po meno in questo periodo come vi ripeto perché la stefi per esempio non ha potuto partecipare questo mese nemmeno ella perché devono risolvere un po di cose però diciamo che ci riprenderemo tutte le altre invece ci siamo quindi passate anche da loro a vedere i loro video vi lascio i link in descrizione e forza tutti quanti cerchiamo di stare sempre su di morale il viola è il colore che sono impallinata del viola in questo periodo sono riuscita perché vi ho messo questi orecchini qua davanti perché sono la bella scoperta del mese sono riuscita a trovarli non è stato facile perché li volevo piccolini tipo antichizzato e di un viola pazzesco li ho trovati eccoli sono sembrano fatti a mano in realtà li ho presi in un mercatino quindi è probabile così mi hanno detto ma è molto probabile che lo siano sono veramente carinissimi in pietra dura queste qui sono praticamente questa pietra è l'ametista sono veramente bellissimi mi sono costati un bel po però li ho trovati belli 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 anzi poi ve li farò vedere indossati anche in un video un colore così cioè non lo trovavo non lo trovavo da nessuna parte guardate che meraviglia sono bellissimi guardate il colore troppo troppo belli hanno una lavorazione pazzesca che carini allora poi qua vicino ho messo la mascherina per gli occhi perché finalmente l'ho trovata perché tutti mi dicevano guardate per riposare bene io a volte avevo un po problemi lo dicevo un po sui vari social no e il discorso anche per riposare bene gli occhi eccetera e mi avete sempre detto guarda che ci sono queste mascherine eccetera poi tra l'altro io anche le porte di vetro in casa quindi a volte filtra la luce già quando appena fa chiaro quindi magari mi sveglio prima del dovuto e così ho preso questa sono riuscita a trovarla anche nel colore che volevo io rosa e l'ho presa poi restando sempre in tema di questo colore vi faccio anche vedere le agendine ne ho prese la bellezza di tre la prima è questa di smemoranda del 2021 ovviamente nuova di pacca eccola mettiamo bene a fuoco troppo troppo figa era l'ultima non riuscivo più a trovarla e quindi beccata le altre due che ho preso ve le faccio vedere ragazzi perché sono troppo carine allora una e due allora la prima questa qua mi piaceva il disegno perché ho preso tutte queste agendine ve lo dico primo perché ero a corte tra l'altro non le ho neanche pagate cari anzi smemoranda non so se c'è il prezzo ma penso sui 10 queste qua qualcosina in meno vediamo no qui non c'è più però già ho già tra l'altro buttato lo scontrino ragazzi ma queste qua penso boh sui 5 6 euro io l'ho presa al galassia un supermercato che c'è qua vicino a casa mia e allora la prima questa qua l'ho presa perché mi piaceva troppo il il come i colori però in realtà la prima questa qui la userò per scrivermi un po tutte le cose dei video quella di smemoranda questa qua la userò perché farò una specie di diciamo resoconto un po di tutte le cose le spese cose un po più della casa anche perché vedete che bella spessa questa qua è bella grossa e poi l'ultima questa qua che mi piaceva tantissimo la fantasia anche di questa proprio primaverile al massimo con i colori di stramoda perché c'è l'arancio il verde questa qui invece la userò per fare da tenere in borsetta proprio anche come rubrica per aggiornare un po tutti i nuovi numeri le cose eccetera anche perché così avere sempre qualcosa anche in cartaceo va bene sempre da borsetta ma per la borsettina piccola ora ve ne faccio vedere un'altra questa qua cioè guardate che bijou sono partita con le agende ragazzi cioè top e questa qua purtroppo non vi posso dire è un posto dove la trovate troppo carina perché l'ho presa in un mercatino ragazzi è tutta in paia cioè guardate guardate che spettacolo è troppo carina le paiette dentro piccolina e questa qui l'ho presa perché la metto nelle pochette piccole a me piacciono molto anche le borsettine piccole e quindi mi ci voleva poi andiamo avanti porta chiave altra guardate adesso tata tata c'è guardate che figaggine cioè troppo troppo carino allora parte che ha il color blucina che io adoro però il purillone così impagabile cioè anche questo questo l'ho preso in un negozietto sempre nella mia zona però non vi posso dire che è di un brand che potete trovare ma diciamo che questi questo genere di porta chiave che va molto di moda in questo periodo con le paiette così cioè guarda ve lo faccio vedere da vicino un cagnolino e sapete perché l'ho preso perché sono talmente belli grandi pucciosi a pare che si può appendere anche fuori dalla borsa questo qua però è talmente bello grande che lo trovate subito ragazzi in borsa è questo il motivo per cui l'ho preso andiamo avanti le mie foglie del periodo vi faccio vedere un occhialino che ho preso troppo carino anche questo qui al galassia ma l'ho preso questo qui è per leggere un po così perché ha i colori verde e viola anche questo qua mi piaceva tantissimo poi mi avete anche chiesto se non sbaglio di un occhiale rosso bordato in velluto che io ho comprato qualche mese fa che ho già messo in un video me l'avete chiesto dove l'ho preso ragazzi l'ho preso dove ho preso questo qua che è appunto il supermercato galassia io non so se c'è anche in altre città questo supermercato però l'ho preso lì questo qui l'ho dato sui 20 euro e quindi questo qui ha un più quanto è non so se è più 2 io ne ho da più 1 più 2 più 3 perché se devi leggere cose molto molto piccole poi normalmente altrimenti non uso anche niente per leggere però se sono scritte proprio piccole piccole e quindi mi sono presa questo con la sua custodietta così allora ultima cosa che vi faccio vedere ho trovato questa bustona bellissima in paillette questa qua 10 euro gli ho dato e 90 quindi non costa per niente cara ma guardate quanto è carina ve la faccio vedere bene troppo figa può essere usata anche come bustina ragazzi perché non solo da trucco anche proprio d'estate per dire o al mare la sera è carinissima vedete com'è fatta questa qua è di ve lo dico subito questa se non sbaglio l'ho presa tigotà e non vorrei sbagliare e manuela biffoli mi pare di averla presa tigotà non sono sicurissima perché l'ho presa da poco però e il prezzo è questo 10 e 90 ho lasciato il cartellino perché così almeno potevo farvi vedere il prezzo perché io poi gli scontrini me li perdo ragazzi e quindi poi resto senza ultima cosa vabbè ultima cosa ve ne faccio vedere ancora una me l'avevo dimenticata che ho preso in un mercatino è troppo troppo bello questo qua è nel verde che va di moda adesso e poi così profilato così questo l'ho preso in un mercatino troppo troppo caruccio vedete com'è è una bustina tipo portafoglio portachiavi mi piaceva tantissimo proprio perché ha sto verde così ma questo l'ho preso già da qualche mese però non ve l'ho mai fatto vedere volevo farvelo vedere bene perché è molto particolare mi piaceva tantissimo quindi questa non è una bella scoperta di questo mese l'unica eccezione gli altri invece sono tutte di questo mese e quindi ve l'ho fatta vedere benissimo ragazzi con questo il video è finito le mie piccole belle scoperte sono queste la mia fissazione per le agende e per il colore viola oltre che per il verde l'avete capita e ci vediamo al prossimo video ciao